Un bel dì, del di te, la sua... Le bambine, sia una fila di fumo... Madame Butterfly! Che storiaccio! Questo povero tenente di marina americana trattato come un individuo senza scrupoli. Pinkerton! Così si chiama! È un uomo di un pezzo, un vero patriota, ma il pubblicano a favore della discriminazione naziale contro la limona sanitaria, sostegno degli parti mi sfondo veramente una brava tantissima talmente brava che smarca il Giappone e si può dormire beh signora, le bambine si sposa, si sposa una geisha quindicenne quindicenne? ma lei chiedeva la patente, che ora non c'era neanche ancora ma si, ma che poteva ancora solo le macchine da cucire ma poi lo sposa più che altro per fargli un piacere e poi il carriere è un muso giallo con timora si, ma poi la ripudia e se ne va ma se tu vuoi il nodo passaggio ma non se ne va via così senza lasciare nulla lei è incinta ha visto un tenente ha visto un tenente e poi anche il limona si, ma non fa si, ma tutti che cercano di buttare vanno qua indosso sto povero penente di marino ma ciò ciò sanno di cosa vanno a la geisha Lei no. Lei lo ama ancora come il primo mese, che peraltro è l'unico che hanno passato insieme. Ed è sicura che lui tornerà e si riunirà a lei e al loro bambino. E lui torna. Ma lo sapevo, lo sapevo che mi va a finire bene, mi riesco bene. Ah, no, però mio, col melodramma non mi so per loro. Ficca come arriva. Arriva ma con la moglie. Pionta, texana, solida massaia, i sani fredduciti, una sala pala in veloci centro, venuta a prendere il bambino per metterlo a lavorare in un sordido sushi party giusto. E Ciocio San? E Ciocio San la prende male. Uuuuuh, se la prende male ne fa una tragedia, piange, si dispera, braccia il figlio come se non dovesse vederlo più. E infatti poi fa caracchiri. Cos'è un figlio di caracchiri? Ma quella figlia, che figlia tremenda. Ma dillo a me che mi fa il pressione al sangue, brutto, 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 brutto. Ma peggio... Peggio, no? Peggio. Pinkerton non è più stato... E chi è? Chi era? Non mangiava, non beveva, non dormiva, deviava in spagnolo. E chi è? 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 e venire a mis hermanos. Mujer, si puoi con Dio parlare, pregattare se io alcuna vez bevevo a te adorare. Mujer, mi alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perdida de tu amor. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren? Ya no está. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. He buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren? Ya no está. Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. de mí, de mí, de mí, de mí.